Ok siamo rimasti qua l'altra volta Io immagino che in queste condizioni combattere non sia per niente un'opzione Posso tirarlo fuori? Ovviamente no Ah no posso perfetto Pensavo di no Eh certo Vai Prende i cristalli No bravo No torna qui bravo No torna qui Oh che cacchio Guarda quanti ce ne sono Ah no questo non posso Aiuto La miseria Questi non potevo prenderli allora Ma queste sono ceste aspetta Hai trovato medicina grande Ah e devo pure riportagliela Ma ti pare Allora anche questa era una cesta aspetta Prendiamo tutti sti cristallini che troviamo Ecco fatto Che non si sa mai che almeno Probabilmente c'è un numero Da prendere in tutto livello ovviamente Ed è per quello che c'è la percentuale Lì c'è un'altra cesta Vediamo Con un'altra medicina Due medicine piccole Perfetto La cosa importante È che qui Ce ne sono altri Ma Ehi voi non preoccupatevi eh La bonifica la faccio solo io qui eh Mi raccomando Non sia mai che Mi aiutate Vero Non sia mai Cosa Ah c'è qualcuno Ok vado io Ebbè certo Sono io il protagonista Qui Anche loro si sentono pesanti Ovviamente Meno male dai Per quello Io ti dico Mi ricorda troppo Yu-Gi-Oh Sta roba Ok Va bene Meglio La Ok Dove avete Dove ho affrontato Voi siete arrivati solo a dargli il colpo di grazia Partiamo da questo presupposto Sono i nuclei Quelli da cui abbiamo ottenuto anche il nostro È il loro regno Possono sbuchare Da dove cacchio vogliono Quanto ci fai che più avanti Impareremo a restare anche in questa dimensione Sì signore Tu combatti con me Sì padre Ma perché voi Beh allora Mi chiedo come mai però Non ce ne sia uno con lo scudo Di Di Legion Nonostante i nemici comunque Ah speravo di Di poterlo prendere Se continuo a colpirlo Da dietro Aia È riuscito a farmi La mossa Ecco fatto Padre Tranquillo ti salvo io Aspetta E niente Sono debole anch'io ora Guarda Cacchio Si stanno corrompendo Anche i nostri Legion Eh beh certo Siamo di nuovo Nel loro territorio È ovvio Che si trovino a casa Praticamente Si sta evocando da solo Praticamente ora Non ha bisogno Della carica qui Qui ha tutta l'energia Che vuole È il suo territorio Ehi Ehi Vedi non far cagate Tu sei sotto il mio controllo Guarda guarda Si stanno attivando tutti Arciere Bestia E possente Dovete tenerli sotto controllo Mi raccomando Forza di volontà E le terrete No Ti prego Non farlo Tu sei dalla mia parte E' rifiutato Non possiamo fare niente Si stanno ribellando A noi che siamo i possessori Hanno spezzato la catena Wow E' diventato rosso E ora siamo senza Ligion Cazzo E' una situazione Merdosa Questa E' veramente Una situazione Di merda Loro sono deboli Questi si sono ribellati Non possiamo fare niente Aia Poi aspetta Si è solo potenziato Non ha Non ci ha attaccato Si è ribellato Quello si ma Forse ancora Nemesis Spada Vuoi vedere che Abbiamo una sincronia Così alta Cattura il tuo Ligion Devo menarlo Ehi calmo Aspetta Prima fammi indire Aiuto Cos'era Quella attacca Eh Vedi tu Siamo senza Ligion E stiamo combattendo Il nostro Ligion Dobbiamo evitare Tutti i colpi In pratica In catena Quindi è così Che ne avremo Altri Cioè è una cattura In pratica Allora Questa meccanica Non so come si sviluppa Se adesso cattureremo Gli altri O ne cattureremo Gli altri Perché mi pare Stupido lasciare Loro scoperti Però voglio la spada Io Il manganello È una merda Intanto Abbiamo visioni Lui non ce la fa Lo sapevo Non sei bravo A catturarli Te Si incazza Adesso Lo cattura Con la forza Della volontà Quanto ci fai Era palesissimo Porca troia La sua forza Di volontà Ha catturato di nuovo Il suo Ligion Mia signora Torna a me Stronzo Ligion spada Che è il nostro Quello base Ehi Calma Ma Ma vuoi vedere Che allora È come dicevo Stiamo per catturare I suoi Catturati E' Catturato di nuovo Catturato di nuovo Catturato di nuovo Allora fermati un attimo Vediamo se possiamo Ecco fatto Almeno incatenarlo Giusto per Tenerlo Un attimo fermo Stardo Questo qua bestia è proprio veloce Io mi curo un attimo Puttane che è quello bestia Vieni qua Orca troia Non riesco Fa troppo veloce il bestia E ora Quello ascia Da ma ti dispiace combattere Legion Oh e finalmente Questo qua ascia Porca Eh la madonna Ok ora Stanno iniziando A ritornare In campo un po' tutti Quello che più mi preoccupa È il bestia qui A livello di attacco Sicuramente Lascia È quello più forte Quella si è rotta la barriera E ora arrivano tutti Minchia qua Non riesco Sono troppi Volevo catturarli tutti Ma non ce la facevo Siamo circondati È una situazione Orribile Puttane 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 Azz Mega attacco Commo Di tutti e quattro Ah ok È distrutto il terreno Aiuto Evoca E legione Salvati No Troppo tardi Scherzavo Torna qui Non ti lascio cadere È bello che quando siamo In questa situazione Primi ZL R Mobilition Primi balzo Ok Oh Merda sono caduto Bella però l'animazione Che ti ritira su Perfetto Ok Ed eccoci All'ultimo Perfetto Oh E là Mi chiedo appunto se Il balzo Possiamo Usarlo anche In battaglia È difficilissimo Da usare Su ste piattaforme È veramente Difficile A parte che Quella di prima Ci poteva arrivare Benissimo F Addirittura Secondo me Vabbè Pensavo molto Peggio Qua una cura È d'obbligo Ora salveremo Nostro fratello E lui dirà E la misera Sei proprio bravo Ad usare Legion Madonna Che situazione Disperata È terribile Okiro Ma potevi prenderlo Dalla catena Oh Neanche un giorno In servizio È già tutto Sto casino Ci penso Preso Bravissimo Allora Ammetto che All'inizio Pensavo che I comandi Fossero addirittura Pochi Ma stanno Continuando A aumentarli E sta iniziando A diventare Difficile Ricordarsi tutto Tutto bene Bro Tutto bene Sis Brava Complimenti Oh I Legion Sono tornati Quello di papino Quello bestia Quello arciere E quello possente Vogliono vendetta E allora vendetta avranno No Sì Ti piacerebbe Eh appunto Tu non ce l'hai Che cacchio vuoi fare Da solo Ma sei scemo E oggi Ma sei impazzito Ma sei scemo Ma te sei scemo Ma che cosa vuoi fare Contro quattro da solo Jin Puoi avere Tutta l'esperienza Che vuoi Ma che cacchio vuoi Non puoi Fermarli Lo sai benissimo È palese È ovvio Che lo sa È la madonna Non è Non Io credo di no Io credo di no Io credo di no Sono triste ora Sono molto triste per ora Vabbè Grazie Ma le vostre pistole Sono più forti Della mia La mia Fa uno Ma per ora Mi Dove Un'altra Favore Oh la madonna Ma il Sponsente C'ha un cannone Ma siamo impazziti Brato Akira Stai 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 Sì Signore Sì Lo sa Benissimo Che sta per morire Bella come scena Però Mi piace Go Complimenti al capitano Tutto rispetto Però perlomeno siamo tornati Adesso gli tiriamo un pugno Secondo me I dialoghi Sono molto Molto Ma Papà Cioè poteva essere peggio Per dire Abbiamo usato troppo il nostro Legion C'è troppo quella modalità potente E nessuno ci caga Grazie Rapporto completato Risveglio SD Questa come mai Casi rossi Perché questo Come ci qua Cinque su sei Abbiamo saltato un caso Anche blu Vuol dire che tra la missione Quando abbiamo combattuto il gorilla E quella prima di entrare nel portale Ne abbiamo saltata una Interessante Siamo saliti di livello? Per poco Siamo saliti di livello